Vorrei mostrarvi come applicare lo zoom a determinate aree. Vi mostrerò l'esempio su un pezzettino di video già preparato precedentemente. È breve, ve lo mostrerò prima al naturale e poi insieme applicheremo uno zoom che servirà appunto da esempio. Applichiamo uno zoom a questa immagine che come vedete è abbastanza in lontananza. Provvediamo a cliccare su zoom e blocchiamo anche la finestra anteprima. È appoggiata al 62%, è troppo in lontananza. Mettiamola al 100% e focalizziamo la cornice nel punto in cui vogliamo che appaia lo zoom. Riprendiamo la visualizzazione e questa volta la vediamo aggiornata con lo zoom. Magari ne vogliamo mettere un'altra giusto per dare di nuovo l'esempio. Pausa, zoom, ci poggiamo sulla finestra, mettiamo al 70, all'80, spostiamo la parte. Ecco, forse è questa che adesso interesserebbe. Riprendiamo la visualizzazione. Questo è il procedimento. Si blocca prima, si passa dall'altro lato, si aumenta la percentuale, si riprende la visione. Basta, nient'altro. Il procedimento. Grazie a tutti